Giudizio positivo su questo primo incontro con Confindustria, ci siamo detti di rincontrarci per discutere anche degli altri dossier, per noi il metodo è sicuramente positivo, dopo mesi e mesi di mancato confronto riprende la discussione che per noi assume un valore, un significato particolare intanto perché c'è una comune convergenza sulla richiesta al governo e al Parlamento di assumersi per intero le responsabilità nell'adottare un provvedimento legislativo che sancisca l'obbligo alla vaccinazione per tutti i cittadini, noi continuiamo a ritenere che il vaccino oggi è l'unica arma che ci può aiutare a sconfiggere il Covid. Ecco perché per noi diventa importante che il governo assuma nella sua collegialità insieme al Parlamento da subito una norma legislativa che sancisca l'obbligo alla vaccinazione e trovare Confindustria che sostiene quanto da settimane andiamo ripetendo è sicuramente qualcosa di importante. Abbiamo dato a Confindustria la nostra disponibilità a sederci per approfondire, migliorare, rafforzare i contenuti dei protocolli nella prospettiva di fare ancora di più gli ambienti lavorativi, luoghi più sicuri per la vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Abbiamo convenuto sulla possibilità di fare una grande campagna di informazione, di comunicazione nei luoghi di lavoro, aprendo alle nostre assemblee la presenza e la partecipazione di medici, di virologi, di rappresentanti del mondo scientifico e sanitario nel tentativo di parlare con le lavoratrici, i lavoratori e convincerli sulla scelta della vaccinazione. Abbiamo dato anche la nostra disponibilità qualora il governo adottasse una norma legislativa sull'obbligo del Green Pass a discutere nel merito per evitare che i costi ricadano sui lavoratori, atteso che il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella gestione degli spazi comuni, l'attuale legislazione e la contrattazione considerano un costo e un investimento per le aziende.